Il mondo dell'economia veneta, riunito al tavolo di concertazione con la regione Veneto, presenti le varie categorie economiche e i principali enti fieristici. Lasciando da parte l'aspetto sanitario, tutto il nord Italia è zona rossa economica e come tale va trattato, ha detto l'assessore regionale Marcato. Se si ferma l'economia di Lombardia, Veneto ed Emilia, significa che si ferma l'intero paese. È il momento di ragionare in maniera unitaria, di raccogliere le istanze e portarle al governo. Perché si hanno presi i provvedimenti per rimettere in moto il nostro sistema economico. Sono state raccolte le varie richieste e verrà redatto un unico documento da inviare a Roma. Le moratorie non bastano, serve liquidità alle nostre imprese per ripartire e a questo punteremo. L'auspicio è che tale documento possa essere condiviso con le altre regioni. Lombardia ed Emilia Romagna ribadisce l'assessore regionale allo sviluppo economico perché quel che è chiaro è che questa è una situazione che va affrontata in maniera unitaria. L'assessore infine ha annunciato che nei prossimi giorni verrà messo in agenda un incontro con i rappresentanti del mondo delle banche. Convocheremo gli istituti di credito appuntualizzato perché serve che le banche abbiano un atteggiamento adeguato alla situazione. Le imprese devono essere supportate dalle banche per rimettersi in piedi. La regione ha già attivato la sezione speciale presso il fondo centrale di garanzia per aumentare la possibilità di far credito alle imprese. Oltre a convocare le banche, ha spiegato l'assessore, stiamo ragionando sull'attivazione di contributi a fondo perduto. Faremo tutto quanto ci è possibile.